E' in corso in questi giorni a Matera, è iniziata ieri quindi dalla Basilicata, ma la potete raggiungere tutti, anche dalla Puglia e dal Molise, venire qui a vedere in corso una rassegna cinematografica interessantissima che tra l'altro ha il connotato del cinema cosiddetto indipendente, nel senso che c'è chi con grande coraggio, grande forza e pochi mezzi si sforza di fare buon cinema, buona cinematografia. Ad aprire proprio nella giornata di martedì il percorso filmico che durerà per più giorni in questa settimana è stato un film particolare che si intitola Abbraccialo per me. La pellicola è autoprodotta dal regista Vittorio Sindoni ed ha una storia che ruota intorno a un malessere, al malessere e alla difficoltà di rapporti e nella famiglia e fuori dalla famiglia di un giovane, di un ragazzo che poi finisce per essere curato solamente con il sistema che molto spesso viene applicato ormai sempre più in questo periodo della psichiatria farmaceutica, vale a dire con gli psicofarmaci. Storia cruda tremenda che vede come protagonista Moise Curia che qualcuno di voi o meglio tutti voi avete già ben conosciuto in altre esperienze televisive e cinematografiche. Benvenuto Sindoni, benvenuto Curia. Come nasce questa sua intenzione di focalizzare questo tipo di aspetto della difficoltà all'interno della categoria minorile sostanzialmente, giovanile diciamo per comodità, di avere i giusti rapporti, i giusti contatti e soprattutto di trovare la giusta risposta di tipo clinico e psichiatrico in questo caso. Beh, questa ultima parte rispondo dopo perché è la parte tutta legata ma quello che ora io dirò capirete che io non mi sono arrogato quella competenza di poter essere uno studioso della psichiatria. Questa storia mi fu portata da una mia amica che aveva in casa un fratello affetto da disabilità mentale, era un ragazzo bipolare. Questa sua malattia fu scoperta durante l'adolescenza e per lì questa storia mi preoccupò, pensavo che era un tema difficile da affrontare. Soprattutto un regista vuole fare un film perché poi questo possa essere visto dal pubblico. Scusate ma ho un problema di Naucetini. E riflettendo, rifacendo ma anche a dei grandi successi di film americani su questi temi, faccio l'esempio di Rayman o faccio l'esempio di Il Lato Positivo, gli americani sapevano raccontare queste storie mettendoci anche tanta ironia, mettendoci tanto sentimento. Allora ho pensato che in questa storia originale di un ragazzo e soprattutto di una famiglia nella cui casa era entrata la disabilità mentale si poteva costruire una storia forte, si poteva anche inserire un pochettino di follia di racconto anche, approfittando dei comportamenti del protagonista. E così ci siamo messi al lavoro e abbiamo fatto con un grosso lavoro che è durato qualche anno con gli sceneggiatori perché non erano mai contenti. E alla fine siamo arrivati a fare un'opera compiuta senza cedimenti al facile giudizio, a indicare percorsi che non era nostro compito. E abbiamo focalizzato l'attenzione sulla famiglia e in particolare sulla madre. Cosa succede? Che è Stefania Rocca. Sì, che è una grandissima attrice Stefania Rocca, madre di questo bellissimo attore che sarà una grande rivelazione per il cinema italiano. Quindi abbiamo puntato a vedere come sta famiglia si rompe, si sfascia addirittura per questa malattia che entra nella loro casa. Sì, anche perché in questo caso di fronte a una cosa del genere, a una malattia del genere, o le famiglie si solidificano in maniera forte contro l'avversità, ma anche contro l'esterno, oppure si frantumano. Moise Curia è un ruolo mica facile, insomma. Io capisco che in ognuno di noi, specialmente quando si ha un'età tra i 15 e i 22 anni, un pizzico di capacità, di follia tra virgolette c'è, quindi basta recuperarla, andarsela a trovare all'interno, però è stato difficile. Beh, è stata un'esperienza intanto bellissima, perché comunque io non finisco mai di ringraziare Vittorio per avermi dato anche la possibilità di poter interpretare questo ruolo nel film. Però sì, Ciccio poi fondamentalmente è un ragazzo… Ciccio Tamburo. Ciccio Tamburo viene soprannomiato. Lo schermo del paese. Lo schermo del paese. Però è un ragazzo poi un po' vivace, no? Fa delle cose strane che per la gente vengono definite poi le cose che fa un folle per alcuni versi. Però c'è stato un lungo lavoro sul personaggio di Ciccio, che poi abbiamo costruito insieme a Vittorio, io mi sono documentato molto, ho seguito dei ragazzi che avevano alcune tipologie di questo tipo e poi mi sono affidato molto a quello che mi ha detto Vittorio a riguardo della costruzione di questo personaggio, quindi molto di quello che vedete nel film è anche frutto di un lavoro fatto insieme al regista. Insomma, entrare nel personaggio, insomma, almeno c'è il regista che è quello che riesce a guidare, quando è un grande regista, riesce a guidare l'attore. Mi sembra importante questo. Ma tutto questo poi ha a che fare con una serie di risvolti, che sono i risvolti collegati anche alle forze dell'ordine per certi versi, all'artigianato per certi altri, alla famiglia che si sgretola. Un padre, un padre che poi è, Vincenzo Amato, che in questa storia ritiene la legge in maniera molto superficiale, pensa che siano solo bravate, discolate, cose del genere. Anche questo è un personaggio difficile. Sì, è difficile, non è che il padre pensa soltanto che siano bravate. Il bambino è vivace all'inizio e lui non sopporta che il bambino si esibisca pubblicamente, interrompendo magari la banda che sta accompagnando il santo patrono, perché il bambino era attirato. Ma il bambino è tollerato un po' nella comunità. Lo prendono in giro, però si divertono quando Ciccio toglie le bacchette a quello che sono il tamburo e lo suona lui. Il padre ha un po' di pudore, si vergogna, ma il padre non è che non accetti la malattia. È più drastico. Pensa che il miglior rimedio è quello di portarlo in una clinica psichiatrica. La madre invece è convinta che con l'amore della famiglia e con la vicinanza il ragazzo, che ancora non è a un punto di gravità irrecuperabile, si possa fare. Poi per lei è un amore cieco, non si rende conto lei stessa spesso che sta esagerando in questo amore essessivo. C'è di mezzo una figura che è la sorella, che quasi spettatrice di questa, che pur essendo giovanissima, alla fine troverà quella via della speranza con una nuova terapia che noi ospichiamo che esista. Giulia Bertini che capisce più degli altri, degli altri del nucleo familiare, che c'era qualcosa di complesso in questo. Ha una funzione di intermediazione. Capisce la mamma, però cerca di portare la mamma con i piedi per terra e di poter accettare altre soluzioni, altre terapie per il figlio, non soltanto quella dell'affetto familiare. Insomma è un problema molto vivo, molto attuale. E c'è anche la didattica, la scuola, la profeta. Indirettamente questo tema riguarda quasi 4 milioni di persone in Italia. Certamente. E quindi il cinema aveva anche il dovere di affrontare questi temi, non possiamo fare soltanto le commedie. Io mi sono innamorato di questa storia, questa storia di follia. Sono stato più folle del progetto e del protagonista e l'ho prodotto. E sono felicissimo di averlo fatto e spero, spero che possa essere utile a chi questi problemi. Già abbiamo dei segnali perché arrivano continuamente sul nostro sito richieste di vedere il film, gente con cui proprio corrispondiamo anche direttamente, madri che dicono forse io questo film non lo potrò vedere perché non posso lasciare mio figlio solo a casa. Cioè questo è il dramma. Sono dei posti dove le strutture non esistono e non esistono neanche quelle assistenze domiciliari continue che possono dare un minimo di respiro a queste persone. Questo è un dramma fortissimo e a quelle persone il film è dedicato. La cosa più difficile da fare, Curia, tra le tante, diciamo la scena più complessa, più difficile. C'è una scena dove tu sei nudo per terra e tua madre cinematografica ti ricopre con la coperta. È quella o ce ne sono ancora più difficili? Beh, quella è stata una scena toccante. C'è un momento di crisi di ciccio ma ce n'è una che secondo me è un po' il fulcro di tutto che poi dà l'inizio a una serie di cose che quando il papà lascia tutto, va via e lui ha una forte crisi in quel momento che lo porta poi in ospedale e a ritenersi responsabile perché lo porta poi a ritenersi responsabile di tutto quello che sta succedendo nella sua famiglia. Cioè di questi litigi tra la madre e il padre, di questa non comprensione, questa madre che lotta contro tutti per far accettare questo figlio. Quindi quella lì credo sia stata la scena più cruente e anche quella più difficile perché poi è da lì che parte tutto il suo percorso negli ospedali, diciamo. Ultima battuta velocissima, Sindoni, può essere la risposta quella della psichiatria farmaceutica? Io penso di no. No, assolutamente no. C'è anche un bellissimo libro che dice che i manicomi non sono ancora finiti. Cioè il manicomio già rischia di diventare lo psicofarmaco perché non essendoci strutture. La legge Besaglia è una grande legge però se non si creano quelle strutture dove ci siano soprattutto gli operatori qualificati, noi non possiamo più assistere alle scene che vediamo sui telegiornali in cui i disabili vengono picchiati perché tra virgolette sono disordinati. Ci vogliono delle strutture dove questa gente possa essere curata e questa gente possa essere anche portata fuori da quei cancelli. Il film vuole avere questa funzione pure perché la gente non abbia paura di queste persone e che se incontra una mamma con un canto un figlio disabile non giri la testa dall'altra parte. Se ha paura ad avvicinarsi ma faccia un sorriso da lontano. Mi faccia una carezza a queste persone perché se ne hanno tanto bisogno. Bene, ringraziamo Vittorio Sindoni, regista del film Abbraccialo per me e per lì con l'autoprodotto lo ricordiamo presente nel Festival del Cinema Indipendente che è in corso qui a Matera. Ringraziamo Moissè Curia che è l'attore protagonista di questo impegnativo, soggetto di questa impegnativa pellicola e nell'augurarvi di incrociare, anzi nell'invitarvi a vederlo perché veramente colpisce allo stomaco ma è notevolissima, vale la pena ogni tanto, giustamente diceva il regista, non si possono fare solo commedi, bisogna anche pensare a questo. Vedetelo e valutatelo perché è importante confrontarsi con questi temi. Grazie per essere stati con noi Sindoni e Curia e a tutti voi come al solito. Alla prossima! Ma siete fidanzati ufficialmente? Insomma, diciamo che mio padre non vuole. Tornerò, Ciccio! T'aspetto! Almeno ci provo da un po'. Come ti chiami? Gioffredi Francesco. Per gli amici Ciccio. Ma che fai? Ciccio Tamburo. Tamburo! Ciccio Tamburo! Ma è se Dio vuole bene a tutti? Perché a me non mi vuole bene? Ma che dici? Io ti voglio dire, mi ha detto tutto bene. Voglio andare al conservatorio. Io voglio diventare un grande batterista. Ma che è sto casino? Hai visto cosa me l'hai fatto diventare questa minchia di musica? Passami! O se ne va lui o me ne vado io. Dove dovrebbe andare secondo te? La scheda ti chiede quanti anni hai e tu cosa hai risposto? 83. Il ragazzo per ora resta qui in osservazione. Non sono pazzo. Andiamo via mamma, ti prego. Nessuno ti vuole bene. Nessuno. Se ti aiuta a prendertela con me fai pure. Ma tu non sai quanto soffre per mio fratello. Ma, aiutami, ho paura. O se ci sta bello e bravo come te, non piange. Pensi che se lo farò a diventare un bologista? Eh sì, certo che ci creda. Bravo, bravo! E questo ti amo! E questo ti amo! E questo ti amo! E questo ti amo! Grazie a tutti